Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Maria Teresa Dell'Unto lavorava come aiuto infermiera in un reparto di pediatria dell'ospedale Gemelli. La donna abitava con il suo secondo marito, Alberto De Carolis, in una palazzina a Tragliatella, una frazione di Roma, nella zona di Bracciano. Nello stesso caseggiato vivevano anche i tre figli avuti dal primo marito. La donna si è allontanata a bordo della sua Fiat Punto Celeste la mattina del 29 marzo 2001. La figlia l'ha vista uscire alle 9.45. Prima di andarsene la signora ha messo a scongelare della carne, un gesto che manifestava la sua intenzione di tornare. Quando la donna non rincasa, le due figlie, il figlio e il marito, fanno diverse chiamate per cercare di capire dove si è finita Maria Teresa. Quando il marito telefona all'ospedale gli rispondono che quel giorno lei era di riposo. Vengono allertati anche gli altri parenti di Maria Teresa che iniziano un altro giro di telefonate ai carabinieri, ma anche agli ospedali, perché temono che la donna possa aver avuto un incidente. Dopodiché escono in macchina per perlustrare le stradine intorno alla casa della donna, in cerca di un'auto finita fuori strada, ma non trovano nulla. Successivamente fanno altre telefonate ai colleghi di lavoro, tra cui Angelo Stazzi. La mattina del giorno successivo, il 30 marzo 2001, Alberto, il marito di Maria Teresa, si reca in caserma per denunciare la scomparsa di sua moglie. La Fiat Punto viene ritrovata il giorno stesso davanti alla stazione di Anguillara. Ma chi era Maria Teresa dell'Unto? Maria Teresa nasce il 6 giugno 1943 a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma. Si sposa a 19 anni con l'elettricista Giancarlo Mari, il 25 aprile del 1963. È un matrimonio felice, dal quale nascono tre figli, Laura, Anna e Roberto. Purtroppo però, nel 1981 a 37 anni, Maria Teresa rimane vedova. Comincia un periodo difficile per tutta la famiglia. Faticano a trovare una casa, subiscono numerosi sfratti. Maria Teresa si ritrova a dover si occupare di tre figli minorenni. La donna non ha un lavoro e, oltre a mantenerli, deve anche trovare i soldi per pagargli gli studi. Un anno dopo la morte del marito, Maria Teresa trova lavoro all'ospedale Gemelli di Roma, come ausiliaria. È da questo momento che inizia una lunga amicizia con Angelo Stazzi, un infermiere che lavora nel suo stesso reparto. L'anno successivo, Maria Teresa conosce Alberto De Carolis, che diventerà il suo secondo marito nel 1985. Sembra che la vita sia tornata a sorridere a Maria Teresa e, il suo testimone di nozze, è proprio l'amico Angelo Stazzi. Nulla nella vita di Maria Teresa dell'Unto giustifica quindi questo allontanamento, ma c'è un fatto che appare strano agli inquirenti. Angelo Stazzi cerca in tutti i modi di non far scoprire ai familiari della donna che, il giorno della sua scomparsa, sono stati effettuati due prelievi dal suo conto. Quando l'uomo chiama una delle sorelle di Maria Teresa, quest'ultima gli dice che vuole recarsi in banca per capire se qualcuno potrebbe aver prelevato dei soldi nel giorno precedente. Stazzi risponde sicuro, non è stato fatto alcun prelievo, ho già parlato io con la banca. La donna però, fortunatamente, non si fida, quindi chiama la banca, chiede se ci sono stati dei prelievi e viene a sapere che ce ne sono stati ben due. Uno alle 13.20 per un importo di 500.000 lire e un altro alle 13.41. Entrambi i prelievi vengono fatti ad Anguillara Sabazia, presso due banche distinte, la BNL e il Banco di Roma. Questi due prelievi fanno pensare a un allontanamento volontario e ad accreditare questa tesi ci sono due fattori. Nella settimana successiva alla scomparsa di Maria Teresa arrivano due telegrammi. Il primo è stato spedito da Torino e dice non vi preoccupate, sto bene, penso di tornare presto. Il secondo dice mi trovo bene, non mi cercate, sto facendo un periodo di riflessione, non sono sola. Due mesi dopo arriva una lettera, era stata spedita da Torino il 4 giugno 2001. All'interno c'è la sua fede nuziale e c'è scritto Teresa sta bene, vi fa sapere che verrà a casa quando le figlie avranno cambiato carattere. Vi manda questo presente per farvi capire che sta bene. Quella fede però non gliel'ha regalata Alberto, il suo secondo marito, bensì il primo marito, Giancarlo Mari. Maria Teresa non indossava la fede che gli aveva regalato Alberto perché era un po' troppo larga. Portava abitualmente la fede del suo primo marito. Tutto sembra di nuovo condurre gli inquirenti al fatto che Maria Teresa si sia allontanata volontariamente. Ma c'è qualcosa che stride con queste ipotesi. Maria Teresa in quel periodo era serena, aveva già finito di pagare le spese per la casa e aveva acquistato un'auto nuova. Stava molto vicina a una delle sue figlie perché aveva avuto una bimba disabile, Camilla. Maria Teresa è molto attaccata a quella bambina. In realtà la donna continua ad avere molta cura dei suoi tre figli e dei suoi nipoti. Il cellulare di Maria Teresa continua a funzionare anche dopo la sua scomparsa. Inizia a generare un traffico telefonico in uscita verso delle utenze estranee a quelle registrate tra i contatti della donna. Ed è qui che entra in scena Angelo Stazzi perché queste chiamate vengono ricevute da alcuni suoi conoscenti. Questo significa che doveva sapere qualcosa della sua scomparsa. Ma sappiamo che Angelo Stazzi, grande amico di Maria Teresa, era stato già contattato dai familiari della donna la sera stessa della scomparsa. Le figlie gli avevano chiesto se per caso avesse visto Maria Teresa durante la giornata. Ma Angelo aveva dichiarato di non averla né vista né sentita. E questo secondo le figlie era strano perché i due avevano un bellissimo rapporto di amicizia ed erano soliti sentirsi spesso per telefono. La mattina del 30 era andato direttamente a casa di Maria Teresa insieme a sua moglie. Appena entrato in casa aveva abbracciato una delle figlie di Maria Teresa, Anna, piangendo ed esclamando «Mi dispiace tanto! Non è possibile!» Anna quindi lo aveva respinto e gli aveva detto «Scusa, ma ti dispiace di cosa? Mia madre è mica morta!» Angelo si era subito tirato indietro come se si fosse improvvisamente reso conto che il suo atteggiamento risultava spropositato rispetto alla circostanza perché nessuno in quel momento aveva pensato che Maria Teresa fosse morta. A quel punto tra il 2001 e il 2002 Angelo Stazzi viene indagato ma non emerge nulla di concreto a suo carico. Il caso della scomparsa di Maria Teresa dell'Unto viene quindi archiviato. Ma nel 2008 vengono stanziati dei nuovi fondi per risolvere i casi insoluti e allora la polizia riprende ad indagare sulla scomparsa della donna e riparte proprio da Angelo Stazzi, il quale nel frattempo è rimasto vedovo, è andato in pensione e ha cambiato casa. L'unica cosa che è rimasta immutata nell'uomo è la sua propensione per le conoscenze femminili. Da un'intercettazione di un dialogo avvenuto in macchina tra Angelo e una donna, gli inquirenti pensano di aver scoperto qualcosa che può inchiodare Angelo Stazzi per la scomparsa di Maria Teresa dell'Unto. La donna in auto con Angelo si chiamava Aurelia ed è una cittadina rumena. La donna vive in Italia dal 2007 e conosce Angelo in una clinica per anziani, lei già lavorava lì. Lui cerca lavoro come infermiere. Il 27 maggio Angelo Stazzi è in compagnia di Aurelia e le regala un orologio. Aurelia si stranesce e chiede ad Angelo, ma che fai? Mi regali un orologio da uomo? Angelo a questo punto puntualizza che quell'orologio non era da uomo ed era appartenuto a una donna. Aggiunge anche che all'epoca era costato 60.000 lire. Il pubblico ministero è certo che quell'orologio fosse appartenuto a Maria Teresa dell'Unto. Quindi questo orologio viene mostrato ai cari di Maria Teresa, i quali lo riconoscono e confermano che apparteneva alla donna. Angelo Stazzi a questo punto confessa di aver ucciso Maria Teresa dell'Unto e in tribunale, durante il processo, dà la sua versione dei fatti. Angelo ammette a processo di aver visto Maria Teresa dell'Unto per l'ultima volta, il giorno della sua scomparsa, quindi il 29 marzo 2001. Angelo Stazzi spiega che a quel tempo era consigliere comunale e per questo motivo quel giorno aveva degli impegni in comune. Quando era arrivato in sede però si era reso conto che parecchi appuntamenti erano stati disdetti. Aveva quindi chiamato Maria Teresa e le aveva chiesto di vedersi. Quest'ultimo aveva consentito e i due si erano visti alla stazione di Anguillara, verso le 9 e mezza 10. I due avevano preso un caffè al bar, poi erano saliti in macchina e si erano inoltrati nelle campagne di Anguillara, dove avevano avuto un rapporto intimo. Successivamente avevano deciso di andare a mangiare qualcosa alla Dispoli, quindi si erano diretti verso quella città. Poi Angelo riflettendo si era reso conto che aveva la casa libera, quindi erano andati verso Montelibretti. Una volta arrivati Maria Teresa si era ricordata che doveva andare a ritirare degli occhiali dall'ottico. I due quindi si erano divisi, Maria Teresa era andata dall'ottico mentre Angelo a prendere un po' di porchetta. I due si erano poi ritrovati a casa dell'uomo per pranzare. Dopo pranzo Angelo e Maria Teresa avevano iniziato a parlare. Angelo voleva troncare ogni rapporto con Maria Teresa anche perché la storia stava andando avanti ormai da ben 25 anni. A quanto dice Angelo in aula, Maria Teresa non aveva preso bene questa notizia, aveva iniziato ad urlare. I due avevano discusso e alla fine Maria Teresa aveva detto ad Angelo Allora, io non me ne vado da questa casa finché non torna tua moglie Fiorella, così le racconto tutto. A quel punto Angelo si era alterato, si era alzato e l'aveva presa per un braccio per portarla fuori casa sua e riaccompagnarla a casa. Ma Maria Teresa aveva puntato i piedi e non voleva proprio andarsene. Maria Teresa aveva reagito schiaffeggiandolo, ma Angelo era riuscito a fermarle la mano per schiaffeggiarla a sua volta. Così la donna si era divincolata ed era scivolata battendo la testa sullo spigolo del camino. Maria Teresa a questo punto stava perdendo sangue alla testa. Angelo dice di averle tirato addosso dell'acqua con l'aceto e di averle fatto un massaggio cardiaco. Poi, sentendole il polso, si era reso conto che non c'era più battito. A questo punto Angelo, sempre stando a quanto dice a processo, non capiva più nulla, non sapeva proprio che fare. Quindi, secondo l'imputato, la causa del litigio che portò alla morte di Maria Teresa dell'Unto è da ricercarsi nella volontà di Angelo Stazzi di interrompere, dopo tanti anni, la loro relazione extraconiugale. Ma Angelo Stazzi sta dicendo la verità? L'uomo dice che Maria Teresa non si rassegnava alla fine della relazione, anche perché non andava molto d'accordo con le figlie. E Angelo era anche il suo confidente. Dobbiamo però fare una considerazione importante, a mio avviso. Angelo Stazzi fa l'infermiere, ma per soccorrere la donna, per prima cosa le butta dell'acqua in faccia, poi le passa dell'aceto sotto il naso per tentare di farla rinvenire. Scusate, ma queste a me non sembrano delle operazioni messe in atto da un infermiere. Un infermiere sicuramente avrebbe prestato soccorso alla donna in modo più mirato, avrebbe provato a tamponarle il sangue che fuoriusciva dalla ferita per fermare l'emorragia, ad esempio. Quindi Angelo Stazzi si trova il corpo di Maria Teresa dell'Unto steso sul pavimento, prende un telo, la avvolge, la fa passare dalla finestra del bagno, la porta nel suo pollaio, fa una buca di circa 40 centimetri, la mette dentro, la copre con la terra e infine butta un po' di cemento sopra l'area. Quest'operazione, secondo l'uomo, dura circa 20 minuti. Successivamente Angelo torna a casa, lava il pavimento, prende il telo con cui ha trasportato il corpo di Maria Teresa, lo lava in lavatrice ed esce in macchina girando a vuoto nel paese. In pratica Angelo ammette di aver ucciso Maria Teresa dell'Unto, ma sostiene si sia trattato di un incidente, mentre l'accusa è fortemente convinta che si sia trattato di omicidio volontario. È su questo che si basa il processo. Incidente oppure omicidio volontario? A questo punto vengono poste alcune domande ai cari di Maria Teresa, partendo dalle figlie, le quali dicono che sapevano che c'era un rapporto tra Angelo e la loro madre, ma solo di amicizia. Se c'era stata una relazione sentimentale, era durata solo pochi mesi, perché poi Maria Teresa aveva conosciuto il suo secondo marito. Angelo Stazzi e Maria Teresa dell'Unto si erano conosciuti negli anni Ottanta. L'uomo era sposato, mentre Maria Teresa era vedova all'epoca. Angelo spiega che nei primi mesi tra i due in effetti c'era solo un rapporto di amicizia. Dopodiché, piano piano, era nato l'amore. I due quindi erano diventati amanti e la relazione era andata avanti fino al 2001. La moglie di Angelo, a quanto dice l'uomo, qualche dubbio ce l'aveva, ma senza prove non ha mai osato puntare il dito contro Angelo. Mentre sua figlia Laura, che faceva la barista, ha sempre sospettato di questa relazione perché sapeva che suo padre andava spesso in giro con Maria Teresa. Insomma, non era mai solo. Ma la certezza che Angelo avesse una relazione extracognugale non ce l'aveva nessuno perché non l'avevano mai visto in atteggiamenti intimi con Maria Teresa. È vero, erano sempre insieme, ma non si lasciavano andare a diffusioni in pubblico. Facevano però delle vacanze insieme. Sono andati a Venezia, a Rimini, a Firenze. Dopo circa tre anni Maria Teresa aveva conosciuto Alberto. I due si erano sposati, ma nonostante tutto Angelo e Maria Teresa non si erano divisi. Anna, la figlia di Maria Teresa, dice che non ha mai visto stazio di buon occhio in quanto lo conosceva anche a livello lavorativo, essendo lei un'infermiera. Lo definisce come una persona meschina e menzognera. Le figlie ricordano che Angelo era sempre molto presente e quando Maria Teresa era di riposo, l'uomo la chiamava in continuazione, più volte al giorno. Quando doveva andare a fare la spesa, lui l'accompagnava. Quando doveva fare qualche commissione, lui l'accompagnava. Erano sempre insieme e a quanto dicono le figlie in aula, era Angelo che cercava Maria Teresa e non il contrario. Il giorno dell'arresto di Angelo Stazio, ossia il 29 ottobre 2009, l'uomo aveva confessato e aveva portato la squadra mobile nel luogo in cui sosteneva di aver seppellito i resti della povera Maria Teresa. Ma non li porta presso la sua vecchia casa, nel pollaio, bensì nelle campagne di Anguillara, dove i due avevano rapporti intimi. Quindi, i carabinieri effettuano gli scavi e l'unica cosa che rinvengono sono delle ossa appartenenti ad animali. Angelo Stazio aveva portato gli inquirenti in un luogo sbagliato, perché, secondo lui, le indagini erano state condotte in maniera scorretta, quindi gli voleva fare un dispetto. Angelo, infatti, era stato incastrato a causa di un orologio che, secondo l'accusa, era appartenuto alla vittima, mentre, secondo Angelo, era stato comprato da lui per regalarlo a una sua amante, Aurelia. Questo è un punto complicato, perché inizialmente Angelo Stazio aveva fatto credere ad Aurelia che quell'orologio era appartenuto a una sua cara e vecchia amica. Dice, però, di aver confessato successivamente alla donna che quel regalo era stato comprato solo e soltanto per lei. A riprova di questo, il fatto che due giorni dopo quell'orologio non funzionava più e quindi era stato cambiato, sostiene Angelo. Quell'orologio, dunque, non era appartenuto a Maria Teresa, ma gli inquirenti stavano tenendo d'occhio la sua macchina tramite un GPS per vedere tutti i suoi spostamenti e secondo loro l'uomo non è mai andato a cambiare quell'orologio. A quanto dice Angelo, però, in quei giorni la sua macchina era rotta quindi stava usando un'altra automobile quando è andato a cambiare l'orologio. L'APM, però, conclude che non ci sono dubbi che si tratti dell'orologio di Maria Teresa dell'Unto perché è stato riconosciuto dai suoi familiari. Tutta questa vicenda dell'orologio, secondo l'accusa, dimostra la personalità di Angelo Stazzi, un uomo superficiale che crede di poter ingannare gli inquirenti a suo piacimento. Mentre in aula, Angelo Stazzi vuole dare di sé tutta un'altra immagine, ovvero quella di un uomo sincero che non ha altro interesse se non far scoprire la verità sulla morte di Maria Teresa dell'Unto. A questo punto, Angelo indica dove si trova davvero il corpo della donna. Se ricordate, è stato seppellito nel pollaio nell'ex abitazione di Angelo Stazzi che nel frattempo era stata venduta nel 2003. Angelo, in effetti, aveva chiesto ai nuovi proprietari di non demolire il pollaio. Successivamente, gli inquirenti rompono il cemento armato ed effettuano degli scavi nella zona del pollaio. Il medico legale spiega che con l'andare del tempo si è andati incontro alla scheletrizzazione del cadavere che ha determinato una perdita di volume dello stesso per cui la cavità che si era creata dove era stato inumato il cadavere era sovradimensionata rispetto ai resti ossei che si sono in gran parte adagiati sul terreno sottostante. Quindi, dopo aver asportato il primo pezzo di cemento è stato possibile accedere alla piccola cavità sotterranea e tirare fuori ciò che era accessibile ovvero i resti ossei da quel punto semplicemente infilandovi un braccio. Cercando all'interno di questa cavità sotterranea giungono a toccare però il muro di cinta costruito dall'attuale proprietario dell'appartamento. Scavando la piccola fossa per gettare le fondamenta del muro aveva portato via l'estremità dello scheletro. Per questo motivo le ossa dei piedi non verranno mai ritrovate. A questo punto l'accusa porta in aula il fatto che l'unica preoccupazione di Angelo Stazzi dopo aver ucciso la donna era stata quella di depistare le indagini. Angelo Stazzi aveva infatti sottratto la fede alla donna col fine di farla recapitare ai figli prima di seppellirla. Vi sono due letture quella dell'accusa e quella della difesa. Secondo l'accusa Angelo mise in opera tutti questi depistaggi per sfuggire alla responsabilità del gesto malsano che aveva commesso. Secondo Angelo Stazzi invece tutti questi depistaggi erano dovuti allo stato confusionale in cui si era trovato dopo aver ucciso senza volerlo Maria Teresa, una donna a cui era molto legato. E infatti racconta che il rimorso lo perseguitava talmente tanto che nel 2002 aveva tentato il suicidio. E c'è da dire che in quell'anno nessuna accusa di colpevolezza l'aveva ancora raggiunto. Un altro punto in cui c'è totale divergenza tra accusa e difesa è il seguente. Angelo Stazzi sostiene di aver ucciso Maria Teresa per motivi amorosi. La donna non voleva accettare che lui si volesse liberare di lei. Mentre invece, secondo l'accusa, il litigio fu causato da motivi economici. Le figlie testimoniano che dagli estratti conto si erano rese conto che Maria Teresa dava periodicamente delle somme di denaro ad Angelo Stazzi. Sulle matrici infatti c'è la dicitura Angelo. Però, attenzione, Angelo Stazzi sostiene che quell'angelo non era lui ma Angelo Cornacchia, il commercialista di Maria Teresa. A quanto dicono le figlie, il commercialista, indovinate, non si chiamava assolutamente Angelo. Non ricordano come si chiamasse perché poi l'hanno cambiato, ma non Angelo. L'ultimo segno del valore di un milione e mezzo era stato incassato da Angelo Stazzi presso l'Unicredit il 16 agosto del 2000. Anna, la figlia di Maria Teresa, ricorda che c'era una cifra di 700 mila lire che andava quasi tutti i mesi ad Angelo Stazzi. Ma Angelo Stazzi nega che Maria Teresa gli abbia mai fatto prestiti. Anzi, sostiene esattamente il contrario. Era Angelo a pagare a Maria Teresa le bollette e la spesa. Anche perché Angelo Stazzi sostiene che all'epoca era benestante e i soldi di Maria Teresa non li ha mai voluti perché non ne ha mai avuto bisogno. Era Maria Teresa ad avere bisogno di soldi. Le cose però stavano veramente così? In realtà le condizioni economiche di Angelo Stazzi erano problematiche. Aveva debiti per 43 milioni di lire. Due spiccioli, giusto? I coniugi Stazzi avevano bisogno di acquistare una cucina per un valore complessivo di 18 milioni di lire presso un negozio chiamato l'Angolo del Mobile. Il debitore principale risulta di Mari Fiorella, la moglie di Angelo Stazzi. E come garante c'era Maria Teresa dell'Unto. Questo è un punto importante perché secondo l'accusa questo finanziamento è stato la causa scatenante del litigio che ha portato alla morte Maria Teresa. L'accusa sostiene che questo finanziamento era stato richiesto solo ed esclusivamente ad uso e consumo di Angelo Stazzi e sua moglie. Mentre invece, secondo l'imputato, di questo finanziamento ne beneficiava anche la vittima, Maria Teresa dell'Unto, e che quindi aveva avuto un interesse personale nel richiederlo. Stando ciò che dice Stazzi in aula, una cucina non costa 18 milioni. Infatti nel documento d'acquisto c'è anche l'aggiunta di un soggiorno. A detta di Stazzi la metà dei soldi erano per Maria Teresa. Il soggiorno era stato aggiunto solo e soltanto per permettere a Maria Teresa di prendere questi soldi. Stazzi sostiene di avergli dati in contanti successivamente. L'APM però sottolinea che è impossibile che sia riuscito a dare questi soldi in contanti a Maria Teresa in quanto la somma richiesta è stata direttamente erogata dalla finanziaria, quindi dalla banca, direttamente all'angolo del mobile. Quindi come ha fatto Angelo Stazzi a consegnare questi soldi in contanti a Maria Teresa dell'Unto? Angelo Stazzi sostiene che ha potuto dare i soldi in contanti a Maria Teresa perché il mobilificio li ha dati in contanti. Cosa che ovviamente non si può fare. In aula testimoniano anche dei negozianti del mobilificio che chiaramente negano nella maniera più assoluta di aver consegnato ad Angelo Stazzi dei soldi in contanti. Però la verità è che sono passati troppi anni per capire come sono andati realmente i fatti relativi a questo finanziamento. A questo punto viene affrontato nel processo quello che, secondo l'accusa, è la prova della volontà di Angelo Stazzi nell'uccisione di Maria Teresa dell'Unto. Questa prova proviene dall'autopsia della donna. L'analisi dei resti, secondo l'accusa, indica senza ombra di dubbio la volontà di Angelo Stazzi di uccidere la donna. Ci sono due questioni fondamentali. La prima riguarda la frattura della mandibola. Maria Teresa aveva la parte sinistra della mandibola fratturata. Secondo la difesa è un elemento compatibile con una lite fra i due all'esito della quale Maria Teresa dell'Unto, sbattendo la testa sul camino, si è procurata quella frattura. Ma secondo l'accusa c'è un altro elemento che assolutamente contrasta con questa versione, ossia un'impronta che starebbe a indicare un accoltellamento ritrovata sulla vertebra C6, che è più o meno a questa altezza. La vertebra presenta una incisura. Il medico legale parla di un mezzo tagliente che è stato applicato nella regione cervicale. Il medico legale della difesa però sostiene che la tipologia non richiama un'azione di arma bianca. Ritiene che sia piuttosto il prodotto di un'azione di strusciamento nella manovra di rimozione delle ossa. E in effetti è stata usata una pala inizialmente per scavare e rinvenire le ossa. La PM dice La morte della Dell'Unto è stata provocata mentre Costei si trovava da sola ad affrontare le ire di Angelo Stazzi. Maria Teresa Dell'Unto è stata uccisa volontariamente da Angelo Stazzi e chiede che venga condannato alla pena di 30 anni di reclusione. Angelo Stazzi verrà condannato a 24 anni di reclusione ma la sua storia processuale non finisce qui. Quindi ci vediamo al prossimo video in cui vi narrerò la parte 2 di questo caso. Il protagonista sarà sempre Angelo Stazzi. Io nel frattempo vi dico che ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo caso possa essere stato per voi interessante in qualche modo. Fatemi sapere se lo conoscevate. Come al solito i casi italiani mi prendono un po' di più degli altri casi. E onestamente avendo avuto l'occasione di vedere Angelo Stazzi a processo non posso che definirlo una persona tremenda. È davvero orribile. E ha una faccia tolla che non vi dico. Non vi dico. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso. Qui sotto come al solito sapete che io leggo i vostri commenti quindi ci becchiamo nei commenti. E nel frattempo vi mando un bacione. Mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Grazie a tutti.